Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Allora, abbiamo il professore Cataldi collegato da Siena, dall'Università Persemeri di Siena, per questo secondo appuntamento che approfondirà in quest'ora di lezione il tema delle donne della letteratura italiana. Per chi ha partecipato la scorsa volta sa già un po' come funziona, per i nuovi ribadisco un po' le due regoline che ci sono, ovvero adesso partirà la lezione del professor Cataldi, se avete domande potete utilizzare la chat che trovate come possibilità per scrivere, raccoglieremo le domande e gli ultimi dieci minuti, un quarto d'ora del tempo a nostra disposizione, verranno dedicate alle risposte. A questo punto do la parola al professor Cataldi e iniziamo i lavori. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutte e a tutti e grazie al dottor Badagliacca, grazie alla casa editrice Palumbo che ci dà questa possibilità, la dà a voi ma la dà anche a me, perché poter parlare delle cose che ci stanno a cuore, che condividiamo come docenti impegnati nella formazione, credo che sia oggi molto importante, anzi direi oggi più importante che mai. Il tema di oggi poi è un tema particolarmente importante, particolarmente sensibile, nel momento in cui, sia pure nel modo peggiore che si possa immaginare, viene posta all'attenzione della cosiddetta opinione pubblica, la questione dell'esistenza o meno di un modello patriarcale che sia vigente, che influisca, influenzi, condizioni, minorizzi. Io nel momento in cui ho proposto questo tema, le donne della letteratura, non ero consapevole che la cosa sarebbe diventata tristemente attuale in questi giorni e quindi in qualche modo cercherò di parlare facendo finta che le cose tra orribili e insensate che si sente dire nel dibattito pubblico, che purtroppo i media rilanciano così senza cognizione di causa, senza un'etica di verifica, nella sterminata bibliografia esistente, rilanciano. Ma io credo, questa è un'opinione non solo mia naturalmente, che l'umanità sia ferita, che il fatto che l'umanità sia ferita è sotto i nostri occhi, lo vediamo, siamo incapaci di vivere in pace, le guerre feriscono l'umanità, però ci sono delle ferite di fondo, non credo sia necessario parlarne a lungo, basta rievocarle rapidamente, c'è una ferita persino biologica ed è una ferita contro la quale possiamo fare poco, ci sono persone che nascono fragili, che nascono con malattie, con vulnerabilità fisiche, qualche volta anche mentali particolari, e persone che nascono forti, che nascono con un corpo più grande, più forte, più sano, più robusto, che non si ammalano, questo è un dato biologico, Leopardi, per stare alla letteratura, si occupa profondamente, tragicamente di questo dato, e di fatto noi pensiamo, dovremmo pensare insomma, ci sono state ideologie nel Novecento che hanno pensato il contrario, però noi pensiamo che non basta fidarsi alla natura, Margaret Mead, la grande antropologa, dice che la civiltà inizia da quello scheletro pre-storico ritrovato con un femore riparato, perché il fatto che qualcuno si fosse preso cura di una persona con un femore rotto, quindi incapace di stare in piedi, significava che esisteva una idea collettiva secondo la quale non è degno di sopravvivere solo chi ce la fa da solo, chi è più forte, chi può prevalere, chi se lo merita, chi nella concorrenza di tutti contro tutti, dell'homo homini lupus, ce l'ha fatta, ma è degno di sopravvivere anche qualcuno ferito, che ti è caro, che rappresenta qualcosa, o che semplicemente forse, ci piace pensare, è un umano, una donna, un uomo, un umano. Però la ferita biologica c'è, ma penso la riconosciamo tutti, il modo di trattarla è molto diverso. Esiste poi una ferita non meno grande che ci siamo fatti completamente da soli ed è la ferita, il tempo si diceva di classe, ora possiamo dire di possibilità economiche, ed è la ferita che in tutte le società, in tutte le epoche, ha distinto ricchi e poveri. non è più di moda ragionare in questi termini, però io credo che ci stiamo avviando alla catastrofe anche per questo. Persone che hanno possibilità economiche gigantesche e che nascono in un ambiente familiare con possibilità economiche gigantesche, ed altri che nascono poveri, poverissimi, chi può vivere con centomila dollari al giorno e chi non ce la fa da averne uno per sopravvivere. Questa è una ferita terribile della condizione umana che si è provato in tanti modi, anche alcuni francamente scellerati, di rimediare. Però il giorno in cui si rinunciasse a provare, a pensare al modo di rimediare a questa ferita, la ferita sociale, la ferita economica, io penso che l'umanità sarebbe perduta. Poi esiste un'altra ferita che pure ci siamo fatti noi ed è la ferita coloniale. C'è stata una parte di umanità della quale abbiamo fatto parte che ha colonizzato un'altra parte, cioè sostanzialmente che ha depredato le sue ricchezze, reso schiava la sua popolazione. Cioè non facciamoci abbagliare dal discorso pubblico che su questo è ormai follemente inconsapevole, ignorante, fatto di rimozioni. Cioè una parte dell'umanità ha depredato ricchezze e reso schiava un'altra parte di umanità, no? È il commercio triangolare, gli schiavi trasportati a decine di milioni dall'Africa alle piantagioni americane. E da questo, da questa ferita, non serve dire quanto a sua volta profonda e terribile e non conclusa, perché una condizione, una prospettiva coloniale continua a governare gran parte della terra e dei rapporti. Da questa ferita dipesa anche la possibilità di quell'accumulazione di ricchezza nei paesi occidentali colonizzatori, l'Inghilterra per esempio, da qui è derivata la rivoluzione, la possibilità economica e di mano d'opera, di materie prime, da qui è derivata la rivoluzione industriale. Cioè la nostra attuale, smisurata, benché mal distribuita, ricchezza. È la ferita coloniale. Qualunque cosa si voglia dire e pensare, poniamo di un fenomeno come l'immigrazione, mai dobbiamo dimenticarci che è il frutto, in questi termini, oggi, di una ferita che l'umanità ha ricevuto dai colonizzatori. Ma su questo, tra le persone appena colte, appena ancora civili, e appena in buona fede, su queste cose che ho detto, su queste tre, la ferita biologica, sociale e coloniale, si è d'accordo. Esiste però, io credo, e confesso che me ne sono andato rendendo conto, soprattutto negli ultimi anni, o dicenni forse, una ferita, su cui invece siamo molto più esitanti, e lo veniamo nel dibattito di questi giorni. Ed è la ferita di genere. La ferita di genere. Il fatto che, in quasi tutte le società che conosciamo, le antiche e le moderne, c'è una vistosa, atroce diversità, disparità, di diritti, di privilegi, di opportunità, tra maschi e femmine. tra umani maschi e umani femmine. E è talmente radicata, ed è questo che chiamiamo modello patriarcale, o dominio maschile, come lo chiamamo dire. Ed è talmente radicata questa condizione, quella che oggi fa, sì, per esempio, che gli uomini in Italia, nonostante la Costituzione, continuino a guadagnare sensibilmente di più delle donne, e occupare notevolmente di più i posti di comando. ed è questa ferita, così inavvertita, che a giudizio di molti teorici, è la, il, si può dire, il modello delle altre. Cioè, secondo vari studiosi, e varie studiosi soprattutto, l'umanità avrebbe potuto meglio interpretare la disparità sociale e la disparità coloniale, perché aveva un modello di disparità, che è la disparità di genere. Su questo si può discutere, ma che la disparità esista, sia stata spaventosa, e continui a essere più o meno insidiosa in molte parti del mondo, inclusa l'Italia, che certo non è l'Afghanistan, in cui le donne non possono leggere, non possono studiare, non possono frequentare l'università, non possono occupare la sfera pubblica. In Italia lo possono fare, ma le strade sono degli uomini, in molti luoghi, a certe ore, i barri, i locali pubblici, sono degli uomini, in certe ore, e in certe condizioni. Insomma, non siamo l'Afghanistan, siamo lontanissimi dall'esserlo, però delle tracce ci sono, per non parlare del fatto che viene uccisa una donna al giorno, più o meno in Italia, per ragioni legate alle relazioni. Allora la domanda che io mi faccio su quest'ultima ferita, è partendo dall'idea che la scuola, come l'università, come ognuno di noi, cittadina, cittadino italiani, avremmo anche, dovremmo avere, la responsabilità di provare a curarle le ferite e non ad aggravarle, ecco, mi chiedo alla scuola, per quello che riguarda, in particolare, l'insegnamento della letteratura italiana, che è il nostro campo, il nostro tema, che cosa può fare? Non è colpa nostra, se c'è questa ferita, non è per esempio colpa nostra, se il canone scolastico è un canone di maschi, Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Machiavelli, Tasso, sembra la formazione di una squadra di calcio maschile. Non è colpa nostra, però, forse, possiamo interrogarci sulla modificabilità di questo assetto. Il che non vuol dire, beh, rinunciamo a Dante, al posto di Dante studiamo Conchiuta Donzella, la prima donna di cui si abbiano tracce nella nostra letteratura, o al posto di Boccaccio studiamo Caterina, la prima grande figura di donna scrittrice della nostra letteratura. Il timore che accada questo è un timore che costituisce uno degli strumenti, se posso dirlo, più ipocriti, di chi non vuole cambiare nulla e non vuole porsi la questione. Poniamoci la questione. Io dico subito che esiste oggi, in molte e in molti loro lo sapranno, un movimento di ricerca di scrittrici, in particolare nella modernità dove ce ne sono di più, prima era interdetto o molto fortemente ostacolato l'accesso alla scrittura, ma dal momento in cui l'accesso alla scrittura è stato meno ostacolato esiste una quantità significativa di scrittrici che sono state sottovalutate, o perfino che hanno avuto successo, hanno vinto il premio strega, hanno ricevuto recensioni entusiastiche da parte di uomini, grandi uomini, di Montale, eccetera, ma sono poi sprofondati di nuovo nell'Obbio. Uno dei temi, infatti, che oggi si sta ponendo è come per le donne la questione, il problema, non sia accedere a una visibilità letteraria, ma sia rimanerci, cioè entrare a far parte del canone, perché avere un anno, cinque anni, dieci anni di gloria è possibile, è successo, è tutto il Novecento, molte donne, ma poi quasi tutte sono progressivamente sparite dalla vista, non più ristampate, non studiate, anche perché a studiare erano quasi solo gli uomini, insomma, c'è una grande questione che ci dobbiamo porre. Io confesso che per la mia formazione, cioè gli studi che ho fatto finora, cioè in gran parte della mia vita e per la consapevolezza dei miei stessi limiti di tempo, di energia e di riformulabilità del mio sapere sento di poter dare a questo processo di riscoperta e valorizzazione di scrittrici un contributo piuttosto piccolo, per non dire quasi inesistente. Posso ricevere le proposte, i suggerimenti che mi arrivano da chi questo lavoro lo sta svolgendo e lo svolge ed essere meglio che posso disponibile. Senza dimenticare mai, questo lo voglio dire prima di arrivare al cuore e al nucleo della mia riflessione, senza dimenticare mai però che la questione non è di misurare il valore delle scrittrici mantenendo inalterati i principi di poetica, diciamo così, o di estetica o di gusto se vogliamo dirlo più semplicemente, che hanno presieduto alla formazione e alla istituzionalizzazione del canone dominante. Perché se noi vogliamo farne una questione di qualità ed è l'unica questione, io credo, quasi l'unica questione, o la più importante da porre, è trattare le donne come gli uomini, perché quando si dice non è in quanto donna che deve essere valorizzata una scrittrice, ma in quanto brava, si dice esattamente la cosa giusta. Mentre si crede di contrastare questo movimento si sta esattamente interpretandolo alla profondità. Si tratta di smettere di valorizzare piuttosto le scritture maschili che quelle femminili e dare un riconoscimento di qualità equo. Però se gli strumenti di misurazione, se gli strumenti di valutazione sono quelli che si sono costituiti dominando un canone maschile di scrittura, è chiaro che per le donne è più difficile. È un po' come quando Foscolo scrive Seppolchri. Viene stroncato, viene stroncato. Dicono ma tu passi da un tema all'altro, non si può fare. Foscolo a un certo punto risponde meravigliosamente ma guardate per giudicare un'opera bisogna sapere quali ne sono gli obiettivi, quale ne è la poetica, non usa la parola poetica che è più moderna ma questo vuol dire. E d'altra parte noi non sappiamo forse che Dante per tre secoli circa è stato considerato uno scrittore barbaro e secondario. Si sbagliavano da Bembo a Vico tutti gli intellettuali e lettori tre edizioni nel 600 del grande Dante della Commedia? Non si sbagliavano, applicavano una poetica diversa che era la poetica rinascimentale dell'equilibrio, che era la poetica barocca dell'eccesso, che era la poetica arcadica della sfumatura boschereccia, cioè applicavano principi di poetica che non permettevano di riconoscere Dante. Cambiata la poetica, incrociando, prima dico, poi il romanticismo, Dante è stato visto ed è stata vista la sua grandezza. Ecco, dobbiamo pensare che oggi quando si dice per esempio che grandi romanzi di donna sono melodrammatici o sono troppo, sembrano romanzi d'appendici, stiamo valutando secondo un principio che è il principio che ha dominato la grande scrittura romanzesca maschile dell'Ottocento e della prima parte del Novecento e che può essere non accantonata, cancellata, no, ma affiancata anche da una sensibilità più equa e più degna di rappresentare nella sua interezza la condizione umana. però la riflessione che vorrei proporre oggi la parte più significativa della riflessione che vorrei proporre oggi riguarda il lavoro che per esempio io sento di poter fare e che per questo vi propongo che non è sulle scrittrici. Il titolo Le donne della letteratura di questo incontro non vuol dire le donne che scrivano letteratura ma vuol dire le donne personaggi della letteratura. le donne personaggi della letteratura. O come è stato proposto capisco che è una grande ferita all'orecchio però quando le parole feriscono l'orecchio piuttosto che lasciare agire il gusto cioè l'inerzia dell'abitudine possiamo anche dirci certo questa ferita mi fa pensare no? Dicevo come è stato proposto di chiamarle le personagge cioè mettere al femminile la parola personaggio. Io confesso che non lo faccio ancora però sento che non è una proposta assurda è una proposta che ferisce l'orecchio e d'altra parte qui bisogna pure che le cose ci scuotano è una proposta fatta alcuni anni fa dalla società delle letterate quindi un gruppo di studiose importanti saldamente radicato nell'accademia con titoli autorevolissimi per fare proposte. Allora personaggi donna o personaggi la mia idea è che nel nome scusate questa sirena che attraversa il nostro orizzonte sonoro è che nel nome se vogliamo vogliamo dare un appiglio teorico forte di ciò che il teorico russo Bakhtin Mikhail Bakhtin chiama extralocalità i personaggi dei romanzi tutti non sono o non sono soltanto proiezioni di chi scrive il romanzo dell'autore o dell'autrice Natasha non è una proiezione di tal storia Julien Sorel non è una proiezione di standard Madame Bovary nonostante quello che l'autore ha detto non è solo una proiezione di Claude altrimenti dovremmo immaginare che Balzac che di romanzi ne ha scritti più di cento e di personaggi nella Comédie Humaine ne ha introdotti migliaia si sia proiettato migliaia di volte come in un gioco di specchi sappiamo invece perché ce lo diceva Balzac che se lui si sedeva in un caffè e aveva un tavolo accanto con delle persone non poteva fare a meno il nome diciamo noi dei neuroni specchio di un tratto di empatia o del fatto che non si faceva gli affari suoi se vogliamo scherzare di sapere tutta la storia di quelli al tavolo vicino quali erano i loro rapporti di saperla o di immaginarla cioè di poter costruire storie personaggi appunto al di fuori di sé diversi da sé donne giovani vecchi ricchi poveri nobili velleitari spiantati fragili timidi arroganti diversissimi tra loro ognuno con una sua autonomia e molti grandi romanzieri hanno scritto che un personaggio uomo o donna una volta creato beh un personaggio fa quello che vuole noi possiamo fare del nostro meglio noi scrittori dicono in tanti per costringerlo a seguire le nostre scelte ma se non sono scelte pertinenti a quel carattere a quella personalità e il personaggio sembra comportarsi come una persona vera molto pirandelliano tutto questo e cominciare ad agire come vuole e il grande scrittore la grande scrittrice sono capaci di assecondare questa diciamo autenticità nel modo in cui i personaggi si muovono ecco allora la riflessione che io vorrei fare ci saranno poi un paio di incontri con gli studenti dedicati in particolare no forse uno dedicati in particolare ad alcuni di questi casi quello che vorrei fare è riflettere su alcuni personaggi donna o alcune personagge se vogliamo otterirci il dito per scuoterci della nostra letteratura anche di opere scritte da maschi facilissimo ad esempio e su questo passo solo un attimo al volo la necessità di riflettere sul fatto che le pastorelle le pastorelle i personaggi pastorella delle pastorelle del genere lirico medievale soprattutto della Francia del nord ma anche provenzale ed anche italiano c'è una pastorella famosissima di Guido cabalcanti in un boschetto trovare pastorelle ebbene le pastorelle sono racconti eufemistici sublimati di stupri questo è accertato tranne che i filologi romanzi che ne scrivono e scrivono che rappresentano stupri dicono è una rappresentazione ingentilita rappresenta con eleganza cioè il problema non è che i cavalieri medievali che avevano diritto di fare del corpo delle popolane quello che volevano abbiano fatto male a scrivere le pastorelle hanno fatto male a stuprarle il male è il nostro se continuiamo a leggere le pastorelle e io penso che si debbano leggere come mettiamo in scena la Carmen di Bizet o l'Otello di Verdi o di Shakespeare senza però dire che la protagonista che a un certo punto è felice perché spesso le pastorelle dicono questo mi resiste mi resiste alla fine cede e poi è contenta beh è una donna stuprata questo almeno dirlo e renderci conto di quale cultura c'è dietro questa rappresentazione d'altra parte Andrea Cappellano nei comandamenti d'amore dice che una donna del popolo stuprata da un cavaliere sta ricevendo una promozione sociale ed è quindi per lei una cosa un evento decisamente positivo questa è la fente di genere questa è l'umanità sulla quale appoggiamo e non pensiamo che sia così lontano se ancora negli anni 70 esisteva il matrimonio riparatore e il delitto d'onore cioè la donna stuprata se lo stupratore si offriva di sposarla doveva accettare l'alternativa era essere disonorata il film di germi seduta e abbandonata no? allora questo per le pastorelle non so come dire è facile lo diciamo continuiamo a leggerle ne apprezziamo la bellezza ma sappiamo che quella bellezza è costruita con anche un personaggio la pastorella che è nella realtà storica è un principio di storicizzazione una donna stuprata la cosa diventa però molto più interessante e coinvolgente se ci preoccupiamo se ci occupiamo di grandi figure di donne della nostra letteratura intanto è desolante pensare che il nostro romanzo nazionale i promessi sposi sia un romanzo di stupro però pensiamolo è un romanzo di stupro come d'altra parte è la famela di Richardson o sono i legami pericolosi di Laclau per nominare Sade tutte opere la cui fortuna andrebbe quantomeno riesaminata per problematizzare della ricezione la nostra ricezione ma comunque i promessi sposi sono un romanzo di stupro l'identità nazionale italiana si basa sul romanzo di stupro che nella prima pagina dopo l'introduzione dice apertamente che i soldati spagnoli insegnavano la modestia alle fanciulle con l'ironia che essendo un uomo quindi non temendo che qualcuno gli insegni la modestia Manzoni poteva permettersi è un modo per dire che i soldati spagnoli le violentavano e tuttavia se si chiede agli studenti che ho provato con i miei che cosa vuole fare Don Rodrigo che cosa scommette col cugino e la risposta è che riuscirà a conquistare Lucia lasciamo stare alla triste metafora del conquistare conquistare no stuprare e l'innominato una volta che Lucia per le ottime idee di Fra Cristoforo è finita nelle mani dell'innominato ma che destino deve avere quella di essere consegnata a Don Rodrigo perché la stupide allora il tema di cui io vorrei lanciare tra voi la possibilità lo spazio di riflessione è ma com'è Lucia di Fra Cristoforo perché a lungo è stata presentata a me a scuola e nei libri e nei saggi come uno dei personaggi più incolori del romanzo una santerella una madonnina infilzata ma è proprio così siamo sicuri che Lucia sia questo ma non sarà che questa è una lettura del romanzo che accetta il punto di vista più superficiale non solo dei lettori ma perfino del narratore che tratta Lucia che prova a fare di Lucia un personaggio esemplare un personaggio che appartiene all'ideale e non al reale ma se Manzoni è un grande narratore è un grande lo si deve anche al fatto che poi Lucia sfugge a questi limiti ed è molto di più dentro il romanzo non dobbiamo fare acrobazie e inventarci strumentalmente una Lucia che non esiste dobbiamo fare l'acrobazia rivoluzionaria di smetterla di leggere Lucia nel modo piatto patriarcale in cui l'abbiamo letta perché Lucia che sta per sposarsi vestita da sposa è un personaggio già straordinario con tutti i segni di un carattere certo che tiene dentro di sé ma pensate al fatto che Lucia non abbia detto a Renzo che qualcuno la sta molestando a me sembra una cosa molto interessante e lei dice non te l'ho detto perché avevo paura di questo cioè del fatto che Renzo dice ora mi metto dietro un cespuglio e gli sparo cioè che Renzo si comporti come il maschio che senta minacciata la sua proprietà e che diventi parte del problema ma quante donne non possono dire al loro compagno di essere state molestate o che c'è qualcuno un collega di lavoro o altro che gli dà maglia non possono farlo perché il loro compagno non sarà un alleato sarà un problema in più Lucia questo vive e poi Lucia ma non sarà forse lei in un mondo in cui le donne erano prive come si dice oggi di agency cioè di possibilità di agire ma non sarà che Lucia è l'unica che nel romanzo riesca davvero a cambiare le cose l'unica che quando a un certo punto lei donna prende la parola svela un dono un'incarnazione pentacostale di parola che converte e lei che parla con il nominato ma ce l'immaginiamo che forza narrativa quel momento Lucia spaventata di tutto Lucia così timorosa così schiva che un certo tutto avrebbe voluto nella sua vita meno che trovarsi prigioniera in un castello e in quella cella al cospetto dell'uomo più temuto da tutti così temuto che neanche il nome ne può essere detto l'uomo che fa tremare i cavalieri e lei si trova al cospetto di quell'uomo ed è lì che la storia l'ha portata un po' come le donne è lì che l'ha portata come tutte le donne ed è lì che lei prende la parola non si mette a piangere non si dispera non si abbandona al destino lei prende la parola per cambiare il destino che ormai sembra segnato ed è vero che l'inominato è lì già un po' attraversato da Magrini è vero che poi andrà a parlare con Borromeo che per così dire farà la schiacciata o chiuderà il colpo ma il colpo lo assesta Lucia non si limita ad alzare la palla perché il cardinale Borromeo schiaccia che fa molto di più è lei che al cospetto dell'innominato prendendo la parola cambia lo svolgimento del romanzo se lei non avesse parlato dubbia come si è definita la storia e infine Lucia non è forse lei nella conclusione del romanzo quando Renzo fa quella figura miserabile e comincia a dire io ho capito tutto quello che c'era da capire il romanzo di formazione o la parodia del romanzo di formazione non mi devo attaccare i campanelli non mi devo mettere nei pasticci cioè devo fare il bravo che è una morale piccolo borghese insopportabile probabilmente quella di Manzoni non dico che non fosse quella di Manzoni forse lo era in parte lo era ma il romanzo ridicolizza quella morale fa la parodia del romanzo di formazione perché ci mancherebbe che tutto quello che c'è da imparare al cospetto della peste della carestia e di tutto il resto che si è incrociato è di non attaccarsi i campanellini al piede e di non mettersi nei pasticci non ubriacarsi o che so io e la vera morale la trae Lucia non ho fatto niente sono finita nei guai non c'è modo non c'è nulla da imparare sì ci si può rivolgere a Dio e questo renderà più sopportabile il male la morale di Lucia è una morale di fatto fideistica sì ma nichilistica anche una morale diciamo pure tragica che chiude il romanzo e che si assume la responsabilità di chiuderlo insomma quello che vorrei proporre è di provare a liberare un personaggio donna come questo dal terrore dei critici prevalentemente maschi che l'hanno ingabbiata dentro una minorizzazione e vedere come in quel romanzo pur scritto da un uomo si agiti e si offre al nostro sguardo una soggettività femminile che in parte riscatta il silenzio di tante donne c'è poi un altro caso clamoroso ed è il caso di Angelica dicevo che il nostro romanzo nazionale è un romanzo di stupro che fa pensare anche un altro nostro grande poema è un poema di terribile la Gerusalemme è liberata al centro ha un femminicidio c'è un uomo che uccide la donna che ama ora si avanza qualche minuto ne dirò qualcosa però pensiamo ad Angelica pensiamo all'Orlando Furioso che cosa succede nell'Orlando Furioso cosa succede davvero perché nei libri per la scuola si dice e nei saggi critici e nella bibliografia che Angelica rappresenta il desiderio irrealizzabile si dice questo la bellezza spuggente a un certo punto a un certo punto però bisogna pur ammettere che se è vero che Angelica in tutto il poema non fa che scappare da uomini che la vogliono violentare come Ruggeri quando la libera dall'orca la vuole violentare se è vero che Angelica non fa che scappare quindi sottolineo dal punto di vista maschile Angelica rappresenta la bellezza imprendibile e l'amore che non si raggiunge mai il desiderio che non si realizza ma è anche altrettanto vero che all'interno di questa spaventosa e ininterrotta fuga della donna lei poi riesce a realizzare invece il proprio desiderio ci riesce come possiamo dirlo che è l'unica che realizza il proprio desiderio non sarà mica armida che scusate mescolo con la Gerusalemme liberata direi in generale nei poemi epici anche inclusa la liberata è il personaggio che meglio realizza la propria felicità chi saranno alla fine Bradamante Ruggeri questi sono tratti encomiastici un po' vuoti il grande amore realizzato anche sessualmente è quello di Angelica la quale dentro l'Orlando Furioso è uno straordinario personaggio che fugge 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 perché tanto lo sa che gli uomini vogliono stuprarla d'altra parte lei non viene forse messa in palio all'inizio dell'Orlando Furioso a quello tra Rinaldo e Orlando che ucciderà più nemici guardate se non è il modello patriarcale questo il corpo della donna è in palio all'uomo che uccide di più in guerra c'è tutta l'ideologia patriarcale guerra uccidere nemici donna in cambio è proprio costruito su questo e lo dico e lo ripeterò questo non è un limite di Ariosto né tantomeno una sua colpa questo è un merito artistico grandissimo di Ariosto che ci aiuta a capire molto di più e molto meglio che è un gigante della letteratura perché ha saputo non importa quanto consapevolmente l'arte è il libero gioco di tutte le facoltà quindi anche quella sensibilità profonda di cui a volte non siamo consapevoli e dove non di rado risiede il meglio di noi allora Angelica fugge sempre e altro non può fare ma a un certo punto sceglie sceglie prende in mano il proprio destino e sceglie e sceglie l'uomo da amare e l'uomo col quale accoppiarsi tutti i migliori paladini di Francia e di Europa la vogliono il grande Orlando più di tutti ma lei non vuole un grande paladino e grandi paladini facciano quello che vogliono non vuole lei si sceglie forse potremmo qui è un po' azzardato ma persino ipotizzare che lo vuole perché il rapporto può avvenire in un piano di parità l'ultimo fante nemico l'ultimo fante pagano con quello vive il suo amore però allora l'Orlando Furioso se è il racconto dell'infelicità necessaria dell'impossibilità della felicità dell'amore che sfuggono del desiderio che non si realizza è altrettanto il grande poema dell'amore che si realizza per una donna è una donna decisiva del poema ma perché questo non viene detto perché il racconto che ne abbiamo fatto che ne è stato fatto dai critici maschi per secoli è dal punto di vista dei maschi nella convinzione e qui tocco il punto centrale di tutta questa riflessione nella convinzione nel sottinteso che è il centro del modello patriarcale del modello culturale patriarcale nella convinzione che l'universalità l'universalità della condizione umana possa ben essere rappresentata da un soggetto maschile Dante che ama Beatrice è l'amore in universale mica l'amore di un maschio per una donna anche le donne possono identificarsi nei sonetti per Beatrice o Petrarca che ama Laura o Leopardi che scrive di Silvia qualunque qualunque atto di un soggetto maschile è stato trattato come degno di rappresentare l'universalità della condizione umana ma questo stesso privilegio è stato riconosciuto molto meno con molta maggior fatica al punto di vista e all'esperienza e alla soggettività delle donne tanto come scrittrici quanto non di meno come personaggi e quindi l'esperienza di Angelica all'interno all'interno dell'Orlando Furioso è un'esperienza valida in quanto parte del vissuto maschile è ciò che fa impazzire Orlando beh no è anche ciò che rende felice Angelica e allora l'Orlando Furioso è l'opera in cui gli uomini si spaccano la testa inutilmente nel tentativo di stuprare Angelica e Angelica trova la felicità nella libera scelta d'amore per Medora e questo non è altro e diciamo pure che è il racconto come il titolo stesso annuncia di che cosa succede a un uomo quando una donna lo rifiuta e lo rispinge che cosa succede a un uomo quando ritenendosi degno e titolato a ricevere in cambio l'amore della donna che ama Angelica per per Orlando invece ne venga respinto e gli venga preferito un altro cioè che cosa succede a un uomo quando una donna eserci pienamente liberamente perfino nel campo che nel modello patriarcale esclusiva prerogativa del soggetto maschile della sessualità Angelica che si sceglie Medoro Orlando che scopre i cuoricini sugli alberi scopre le scritte il racconto meraviglioso del pastore di quest'amore felice quella pagina splendida di idillio realizzato che cosa succede Orlando succede quello che succede ai femminicidi oggi impazzisce e che cosa fa distrugge il grande amore cioè il grande desiderio diventa distruttività sradica gli alberi ammazza gli animali cioè è un poema che se lo rileggiamo in questa prospettiva forse ha tanto da dirci non solo sul femminile ma anche sul maschile ma non il maschile che non riesce a raggiungere il proprio desiderio cioè stuprare la donna ma il maschile che non sa fare i conti con una partita alla pari in cui i soggetti si propongono e si scelgono non sa fare i conti con questo e in presenza di questo proprio in presenza di ciò che scioccamente si vuole invocare quando si resiste a questo tipo di sguardo sul mondo proprio in presenza della reale parità di terreno perde il senno come oggi succede con donne libere cioè donne che si comportano in nome dei diritti riconosciuti normalmente da sempre ai maschi perdono il senno e diventano distruttive e li uccidono questo è il modello patriarcale quello dell'Orlando Furiosa vorrei lasciare qualche minuto per domande però faccio un ultimo accenno a un'altra opera come dicevo la Gerusalemme liberata che ha al centro un duello in cui un uomo uccide una donna lì è chiaro che la lettura che è stata data è una lettura molto interessante tra l'altro ci sono dei saggi meravigliosi di Sergio Zatti su questo dai quali è possibile ricavare questa idea che per Tancredi uccidere Clorinda è la condizione perché i cristiani vincano la guerra infatti dopo il dodicesimo canto della liberata c'è una svolta e le sorti della guerra fino a quel momento sfortunate per l'esercito cristiano invece volgono al loro favore ma perché un uomo deve uccidere la donna che amma anche in quel caso la deve uccidere perché il clima culturale della controriforma è sceso sull'Europa è sceso su tasso chiede un disciplinamento di cui fa parte la rinuncia alla felicità la rinuncia all'amore e quindi un prezzo che deve essere pagato innanzitutto dal femminile che nella Gerusalemme liberata rappresenta con Armida con Clorinda con Erminia una alternativa secondo Zatti un'alternativa rinascimentale ormai in crisi di libertà e di felicità Tancredi deve ucciderla per questo io però vorrei cercare di vedere sotto la scena di quel duello e sotto il battesimo che da un punto di vista narrativo è un modo un po' incredibile Clorinda chiede a Tancredi prima di morire anche un destino matrilineare se posso dire così quindi antipatriarcale di Clorinda non dobbiamo dimenticare che Clorinda è stata affidata bambina allo schiavo Arsete uno schiavo eunuco esattamente come un eunuco simbolico fra Cristoforo di cui si fidano le donne ma sugli uomini che rinunciano al sesso o che non hanno il pene a partire da Abelardo ci sarebbe un ragionamento tutto diverso da fare Clorinda è stata affidata allo schiavo Arsete dalla madre perché nata bianca da genitori scuri di pelle la madre temeva che il padre sospettando l'adulterio che non c'era stato l'avrebbe uccisa affidandola allo schiavo Arsete la madre gli ha chiesto di battezzarla cosa che Arsete non ha fatto perché non è cattolico e quindi grava sulla donna su Clorinda questo mancato adempimento di un volere materno di cui lei è consapevole perché lo sogna come dice nel dialogo con Arsete la mattina che precede il combattimento con Tancredi e perché Arsete stesso glielo racconta prima che lei vada a combattere pregandola di non andare e Clorinda va e va cambiandosi gli abiti lo sappiamo da bianchi a neri cioè si prepara alla morte ma allora il fatto che Clorinda moribonda chieda il battesimo non è solo il trionfo ideologico del cattolicesimo che redime anche il nemico battezzandolo è anche sotterraneamente il modo in cui Clorinda si congiunge al desiderio della madre e scavalcando tutti i modelli di guerra di discriminazione paterni e perfino la stupidità cecata di Tancredi si stabilisce un contatto e un collegamento col desiderio materno aprendo un estremo debole filo di legame materilineare cioè alternativo al modello bellicoso e patriarcale della della Gerusalemme liberata io credo che sia uno spiraglio dal quale guardare a quel grandissimo personaggio che è Clorinda e uno spiraglio che forse può parlare profondamente alle nostre studentesse e anche ai nostri studenti come ognuna di queste grandi opere se abbiamo il coraggio di scrostarle dalla terribile responsabilità e colpa non dei loro autori che hanno scritto dei capolavori così ricchi ma di noi lettori che siamo stati tanto a lunghi a lungo così pigri e così ancorati in pregiudizi e limiti nostri grazie 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 al professore Cataldi che insomma ecco comunque ci fa entrare in un tema che verrà affrontato ancora altre volte all'interno di questo ciclo di incontri e che appunto riguarderà sia gli incontri con i docenti ma anche gli incontri con allora passerei la parola alla collega Roberta Gambino per forgere delle domande che sono arrivate per il professore Cataldi buonasera a tutti allora il professor Luca Giorgenon ci chiede Ariosto è uno dei rari grandi autori della nostra tradizione che getta uno sguardo ironico sul maschio che si apparecchia all'assalto del corpo femminile basterebbe ricordare la scena di Sacripante alle prese con Angelica nel canto per non dire poi di Rodomonte e Isabella episodio in cui nel curioso notanto un esistere il drammatico proprio a proposito di questo Bradamante oltre Angelica è una donna che raggiunge il proprio obiettivo al di là del motivo inconiastico quindi si potrebbe andare in questa direzione come spunti per delle discussioni in classe sì sono perfettamente d'accordo e colgo anche l'occasione per salutare l'amico Luca è così d'altra parte Ariosso sappiamo che anche nella vita aveva una sensibilità al femminile non era un uomo d'armi non era un uomo a cui piaceva neppure trovarsi in cartagnana in mezzo a situazioni pericolose diciamo eroiche tra virgolette era un uomo che era forse capace di la biografia non è necessaria però la biografia qui aiuta a intravedere un uomo disposto ad ascoltare il femminile ad ascoltare il femminile ferito noi non possiamo immaginare cosa è stato il femminile ancora quando Ariosso scrive e credo che nella Gerusalemme ci sia molta ironia nei confronti del maschile però è un'ironia tragica vederci secondo me solo ironia è un privilegio di chi non rischia di essere raggiunto dal danno che le donne subiscono mi ha fatto venire in mente il rischio di vederci solo l'ironia che certamente non è quello che fa il collega Zorzenon quello che scrivono gli studiosi di quella che secondo me è la più bella novella del Decameron o una delle più belle la novella di Alatiel che passa da molti rapitori il rapimento il ratto è uno dei capisaldi della cultura patriarcale e Roma si costruisce come mito sul ratto delle sabine cioè sul rapimento delle donne che sottintende poi ovviamente lo stupro a fini riproduttivi Alatiel subisce molti rapimenti e molti stupri uno dopo l'altro e a cui si adatta per sopravvivere e quando torna infine finge di essere ancora vergine e i critici maschi i più grandi critici maschi Ason Rosa Muscetta ed altri cosa scrivono? che è una novella di beffa perché Alatiel riesce a beffare tutti insomma io io sono veramente su questo molto perplesso allora quella di Ariosto è ironia ma è un'ironia tragica perché mentre ridicolizza il maschio però ci fa ricordare che quella furia di Orlando o la goffaggine di Ruggeri che ha liberato Angelica dall'Orca e che vorrebbe stuprarla quell'Angelica che scompare mettendosi in bocca l'anello che rende invisibili lasciamo perdere questo ci sarebbe troppo da dire molti dubbi che lì Ariosto non intuisca che Angelica non scompare per niente crede di scomparire mentre lo stupro lo subisce ma sarebbe un tema troppo complesso è la stessa cosa se non ci vediamo il tragico sul comportamento maschile di considerare la Tiana una novella di beffa è una novella tragica tragica e e vederci il tragico implica la possibilità di restituire anche ai personaggi donna la loro reale condizione che poi rappresenta quella delle donne dei secoli e in certa misura dove più dove meno quando più quando meno ancora oggi le leggo un'altra domanda che è arrivata dalla professoressa Antonella Colussi che si complimenta per la lezione meravigliosa e chiede qualche parola sul personaggio di Mirandolina spesso presentata come un Don Giovanni in Gonnella si Mirandolina Don Giovanni in Gonnella ringrazio veramente la collega Colussi perché veramente è una citazione perfettamente a fagiolo è un modo di dire addirittura smaccato che non si può ragionare se non con categorie del maschile figuriamoci se Mirandolina è un Don Giovanni in Gonnella Mirandolina è una donna assediata da uomini che si difende dall'assedio simulando l'identificazione col modello che gli uomini hanno a cuore e questo è una cosa che succede sempre non si dice ma la donna è seduttiva ma spesso la seduttività di una donna se non è scelta se non ha lo spazio se non ha il contesto di libertà sociale e culturale perché sia una seduttività scelta beh quella seduttività come si vede nella sciaguratissima iper-sessualizzazione delle adolescenti e delle pre-adolescenti non è libertà è sudditanza al modello maschile è sudditanza al modello del beh ne ha parlato Bourdieu chiarissimamente il dominio maschile passa anche attraverso le donne e la loro costruzione che a volte difensiva a volte può diventare perfino aggressiva ma dentro il modello maschile Mirandolina è un personaggio meraviglioso e straordinario ma anche lei è un personaggio tragico e Coldoni lo fa sentire lei a un certo punto si spaventa di quello che ha fatto si spaventa e decide di rinunciare sa che deve rinunciare all'amore lei non può scegliere l'amore lei deve sposare Fabrizio perché perché il dislivello di classe riappiana in parte il dislivello di genere è come quando negli Stati Uniti un nero ricco può essere trattato quasi come un bianco perché perché i soldi gli permettono di recuperare col dislivello sociale l'inferiorità presunta etnica e di colore della pelle e così Mirandolina non può sposare un uomo nobile o ricco perché questo ne farebbe come le dice chiaramente una schiava per essere libera e Mirandolina ci prova ad essere libera la condizione è di sposare un uomo che le permetta sia pure dentro una malinconica rinuncia alla libertà di esercitarne la parte che la società le consente come continua io credo a succedere spesso molto spesso le pongo un'altra domanda che è stata arrivata che è arrivata di solito si pensa che la questione di genere riguardi la necessità di integrare le presenze di autrici che sono rimaste escluse dal canone scolastico ma non si fa attenzione a dare rilievo al punto di vista maschile nei confronti del mondo femminile il vero problema nei rapporti tra i sessi è infatti il ritardo del mondo maschile ancora legato a un modello patriarcale che continua a dominare con il suo punto di vista non è più importante mettere in crisi questo modello lavorando su comesse sia annidato anche nei grandi capolavori di autori di primo piano sollecitando una riflessione che porti a superare questi stereotipi è una domanda bella interessante importante che richiederebbe una riflessione molto più lunga di quella che ora io posso fare perché apre un grande fronte di riflessione in parte alternativo a quello che io ho scelto e poi come sempre non esiste una sola strada per affrontare e gestire una questione quello che non si può fare è negare che esista una questione che esista un problema salvo che uno neghi che una donna che la sera cammina per strada da sola in un quartiere con molti maschi per strada sia in una condizione di perfetta libertà o che entri in un bar pieno di uomini come normale in un paese da sola eccetera eccetera per non dire cose più di sostanza qui parlo di spazi simbolici è lo spazio pubblico simbolico io penso che il canone vada allargato a più scrittrici donne è che ci possono essere degli scrittori maschi che ne possono uscire senza problemi perché sono diventati meno interessanti d'altra parte abbiamo fatto un canone in cui tantissimi maschi di valore sono rimasti fuori quindi su questo ci si può riorganizzare soprattutto sul novecento ci sono scrittrici senza dubbio di talento molto superiore a quanto finora si sia riconosciuto mi limito a nominare Elsa Morante Natalia Gisburg non sono certamente Le Sole o Amelia Rosselli della poesia ma ci sono altre altre scrittrici io però ho detto che credo possibile anche dentro il canone che stiamo praticando e che diciamo la verità conosciamo meglio e non si può chiedere alle persone di insegnare quello che non sanno bene di avere uno sguardo nuovo lo sguardo nuovo è molto importante la collega che ha fatto queste osservazioni che condivido propone mi sembra di capire di trovare nelle opere la rappresentazione di un punto di vista maschile minorizzante è giusto e si può fare se uno può addirittura guardare romanzi di dannunzio l'innocente dove un uomo costringe una donna a far morire di freddo il neonato avuto da un altro uomo o il trionfo della morte dove un uomo abbraccia una donna e si buttano di sotto cioè suicidio omicidio lo leggiamo sulla cronaca tutte le settimane è chiaro le donne uccise nella nostra letteratura guardate sono una tale quantità però io ho proposto di fare una cosa un po' diversa da questa cioè di valorizzare i personaggi donna come soggetti per imparare e per educare oltre che noi stessi innanzitutto noi stessi e noi stessi ma anche le nostre studentesse e i nostri studenti a riconoscere e valorizzare le soggettività delle donne e che purtroppo la verità è che gli uomini di fronte alla soggettività vera delle donne alle donne come si dice forti di carattere di personalità cioè che hanno una soggettività gli uomini sono in difficoltà come come ha detto Nadia Fusini accanto a una donna soggetta una donna forte ci vuole un uomo che sia altrettanto capace di esserlo e purtroppo gli uomini spesso sono fragili e la loro fragilità viene rappresentata bullisticamente si può dire spesso da forza dentro un modello che li protegge e tutela ma al di fuori di quel modello che cosa sarebbero gli uomini io penso e propongo di provare a suggerire ai nostri studenti che sarebbero liberi a loro volta più liberi non costretti con la loro fragilità a competere ma più liberi di essere soggetti in mezzo a soggetti quali che siano ma capisco che non è facile però valorizzare personaggi donne riconoscere le soggettività delle donne è un passo avanti io penso leggiamo ancora un'altra domanda la professoressa Monica Caffia ci chiede un pensiero sulla Francesca Dantesca altro personaggio troppo spesso malinterpretato sulla commedia ci sarà un incontro forse dedicato agli studenti sulle donne della commedia ci saranno due incontri uno il 16 gennaio è proprio la questione di genere della commedia di Dante ecco questione di genere della commedia di Dante perché è una questione molto grossa penso che lì c'è veramente da mettere le mani si sta facendo qualcuno lo sta facendo bisogna un po' rileggere la commedia d'altra parte non dobbiamo meravigliarci è stata letta dentro modelli con lenti fortemente caratterizzata il che non vuol dire che noi vedremo la verità no? qual è la verità di Dante? quella nazionalista di De Sanctis quella di purezza di croce quella strutturalista o che so io quella decostruzionista non c'è una verità la grandezza di Dante consiste nel fatto che ogni volta che si provi a mettere degli occhiali nuovi si vedono cose nuove oggi io penso noi siamo in grado di vedere di più di quello che è stato finora su questi temi di genere che sono temi che ci interessano finalmente è chiaro che Francesca Francesca è la prima donna con cui Dante parla è la primo personaggio dell'aldilà con cui Dante parla se facciamo eccezione per Vigilio che è la guida proprio come Piccarda sarà la prima donna del paradiso con cui parla allora se le donne sono meno nella commedia però sono importantissime perché Dante sceglie una donna come prima dell'inferno è prima del paradiso peraltro con un legame tra loro ma poi Francesca parla lei non parla Paolo cioè Dante che aveva una visione del rapporto tra i generi del tutto conseguente a quella del suo tempo ne parlerò cioè le donne si misurano sulla capacità di rispettare il pudore sono queste cioè liberarsi da Eva Piccarda si è fatta monaca Francesca ha ceduto alla sessualità Taide è questa volgarità che sappiamo è l'equivalente di Capaneo o di Filippo Argenti cioè le donne si misurano sul privato però poi Dante è quello che fa parlare Francesca della teoria d'amore cortese certo per superarla ma la rende degna di parlarne lei e renderà nel paradiso Beatrice degna di parlare degli argomenti proibiti alle donne proprio quelli proibiti alle donne a volte in modo formale la teologia la scienza e la politica i grandi discorsi di politica compreso l'ultimo del trentesimo del paradiso insomma quale che fosse la sua ideologia e il modo in cui questa ideologia costruisce anche delle situazioni della commedia nella commedia nella grandezza smisurata di quell'opera noi troviamo uno spazio per riconoscere valorizzare in modo filologicamente corretto non abusivo non forzato non strumentale la ricchezza nuova per noi se nuovi decidiamo di essere noi di questi grandi personaggi grazie grazie al professore Cataldi in realtà c'è qualche altra domanda perché comunque l'argomento il tema trattato è un tema che ha destato molto interesse avremo cura di annotarci le domande alle quali non c'è stato il tempo di poter rispondere e rispondere successivamente o tramite mail insomma o magari nei prossimi conti due cose sicuramente le vorrei sottolineare così giusto per condividere e lasciare sempre magari anche un invito agli insegnanti ovvero ecco quando il professore ha parlato di non di canone da sostituire ma di canone da allargare quindi ecco su questa ricerca comunque di un canone nuovo a scuola è un tema anche questo che attraversa diciamo costantemente tutti gli incontri che in tanti anni la casa editrice per lungo ha fatto insieme a il professore Cataldi e il professore Perini quindi un allargamento del canone la seconda cosa che secondo me è molto bella da sottolineare trattare le personaggi donne come soggetti e quello secondo me è un esercizio che comunque può iniziare diciamo subito nella didattica e nell'ora diciamo di lezione ecco che in qualche maniera si affianca un po' a questo format che abbiamo proposto ovvero un'ora di lezione alla fine potete già sperimentare queste cose nelle classi noi staremo insieme come abbiamo detto fino ad aprire insieme a voi e insieme a vostri studenti quindi avremo anche modo di confrontarci su questo e vi invito anche a inviarci qualche considerazione vostra se con le vostre classi effettivamente lavorate in questo modo quindi potrete scrivere a info docenti chiocciolapolume editore punto com e noi avremo cura di girare al professore Cataldi le vostre le vostre osservazioni o anche le vostre considerazioni un'altra cosa allora prossimi appuntamenti il 29 novembre sarà l'ultimo incontro del mese di novembre è dedicato agli studenti e l'ora di lezione sarà dalle 9 alle 10 del mattino se non avete iscritto se non vi siete iscritti potete farlo c'è il link del sito insomma potete potete iscrivere le vostre classi e con i docenti invece ci rivedremo il 16 gennaio e l'incontro sarà proprio questioni di genere nella commedia di Dante quindi avremo modo insomma di proseguire questo nostro percorso e questo nostro confronto ringrazio tutte e tutti ringrazio il professore Cataldi per la disponibilità ringrazio le colleghe Roberta Manola e il collega Vincenzo Patricolo che si sono occupati della gestione anche tecnica ma ecco anche della gestione delle risposte e delle domande grazie a tutti e buon fine settimana arrivederci grazie e buon fine settimana grazie a tutti